e ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale oggi ragazzi siamo in questo nuovo video di prodotti che terrò un po' siled quindi sigillati e invece altri due prodotti che vi faccio vedere dove invece ho aperto anche se dalla confezione sembrano ancora nuovi tra virgolette che però anche lì al loro interno ci sono prodotti tra virgolette siled anche in quel caso lì e perché ovviamente questi qua come ripeto li terrò sigillati perché sono riuscito a trovarli entrambi oltretutto fortuna vuole lui l'avevo già trovato black gold perché qua all'interno c'è la promo black gold sua l'avevo già trovata in una bustina giapponese mentre questo ne avevo comprato un altro apposto in modo tale che l'altro l'ho aperto trovato la black gold e ho sbustato poi le carte al suo interno hanno ottenuto c'erano un bel po' di chicche tra cui dei dadi in metallo la monetina in metallo e secondo me chicche veramente belle mentre invece ragazzi questi altri due prodotti li ho già aperti perché l'emozione di questo sbustamento della mia ragazza soprattutto con le carte giapponesi è troppo alta lei non le aveva ancora aperte quindi abbiamo dovuto aprirne un po' di bustine giapponesi però se vedete ragazzi sembrano veramente chiuse ovviamente vabbè a parte il pikachu che c'è qua che non ha una bustina di nulla quindi è seeded tra virgolette questa bustina qui la v max perché queste qua non mi interessavano la lascerò così intatta da collezione e la lascerò quindi seeded poi non so se prenderà valore più alto o quant'altro però la vorrò tenere così perché mi piace poi particolare almeno non si rovine tutto quindi ci sta ora ragazzi vi rifaccio vedere un attimino alla veloce da vicino così per farvi un'idea almeno vi ho portato anche questa parte della mia collezione diciamo della nostra collezione di tutti questi prodotti ormai solo pokemon sto trattando solo pokemon però ogni tanto ci sono qualche chicca che non riguarda pokemon quindi ragazzi non sono un canale di pokemon perfetto ragazzi a parte gli scherzi a parte le cavolate iniziamo subito con questo box di zamazenta con questo super box da collezione veramente bello ragazzi perché ripeto l'ho aperto questo elite trainer box perché alla fine è tutto in effetti un etb e ragazzi ripeto veramente veramente bello e qui dietro ragazzi vedete cosa c'è al suo interno come vi ho detto la carta promozionale dovrebbero essere se non ricordo male 12 bustine vediamo insieme 3 6 3 6 12 quindi 12 bustine poi le monetine barra segni vite quant'altro metallizzate molto belle vi ripeto e anche i dadi anche qua un po' in metallo barra ferro molto molto belli poi questi dettagli con questi colori questo è un gran bel prodotto e ripeto lo terrò così sigillato e speriamo in bene tra virgolette che inizieranno a essere un po' introvabili stessa cosa ragazzi poi con lo zashan ovviamente box identico ovviamente cambia solo la carta all'interno guardate anche che dettagli qua ai dati con questo nero dorato nero e d'oro stranamente qua è di lato quindi impressionante questa scelta tattica e qua ragazzi come vedete c'è la promozionale sua dietro e poi tutte le cose oltretutto noto adesso che i dadi sono diversi molto bello però ovviamente non andrò a aprirlo solo per i dadi chi dei dadi non me ne faccio ovviamente niente poi ragazzi andiamo subito con questa confezione di pikachu c'è pikachu scusate c'è pikachu nella carta promozionale ma c'è la super carta mega gigante di mew e mewtwo gx tag team alleati come vedete le bustine ripeto sono già aperte questa è la carta del pikachu che lascio qui per non crearmi ulteriori problemi molto bella dovrebbe essere oltretutto di un film credo se voi lo sapete magari datemi un giramento qua dietro questa è la parte del retro se non ricordo male esatto c'erano tre bustine e tre bustine con poi la carta gigante oltretutto se non ricordo male qua no stavo ornettando dietro che non so cosa ci sia scritto però ti vanno a vedere questo e questo ma non ho trovato né uno né l'altro anzi ragazzi queste bustine mi sa che erano abbastanza fallate perché non ho trovato veramente nulla ci sono rimasto abbastanza male perché neanche una carta speciale neanche una minima gx non l'abbiamo trovata quindi delusione però almeno questa carta speciale è la carta super gigante quindi ci siamo accontentati in questo caso poi ragazzi veniamo con l'ultimo come vi ripeto la bustina che anche in questo caso ormai la tengo così perché comodità di questo box come l'ho rifilato con questa bustina speciale con questo colore con le evolution le quattro che vedete qua sopra dovrebbero essere solo queste quattro quindi flareon, vaporion, jolteon e espion dovrei averli azzeccati tutti con questa bustina speciale dove puoi trovare uno di questi quattro e poi tutte le bustine delle EV Heroes e anche qua ragazzi ora l'ho mandato a gradare però questo ragazzi è stata una soddisfazione allucinante abbiamo trovato Umbreon Hyper VMAX e Umbreon VMAX nello stesso box quindi in questo set qua quindi ragazzi lusso ovviamente mancava l'alternative trovavano l'alternative esplodeva una bomba però soddisfatti ho trovato altre evolution particolari quindi rientrato anche tra virgolette della spesa ma ripeto non mi interessa di quello questo poi ripeto ragazzi è il retro dove vedete pacchettino speciale e le otto bustine delle evolution di EV Heroes e questo ragazzi è il suo pacco questo se lo trovate da un lato per la fortuna che ho avuto io forse ve lo consiglio però magari è stata la mia botta di sedere che magari non ricapita da altre persone quindi forse c'è da stare attenti se ovviamente riuscite a trattenervi magari quello è anche bello da tenere chiuso prima o poi ragazzi andrò in Giappone spero di trovare tutte queste cose succose ovviamente per il periodo in cui andrò con quelle carte che ci saranno però vorrò prendere tante di queste cose super succose e oltretutto ragazzi arriveranno delle bombe che ho preso direttamente da Amazon Japan che vedrete vedrete quando arriveranno ma arriveranno tra un bel po' però vedrete ovviamente vedrete anche tutto il discorso del gran festa perché ho ordinato tutto quello che c'è in inglese quindi una parte sealed e una parte chiusa ho ordinato due di tutto quindi perfetto e niente ragazzi non dilunghiamoci troppo in questi messaggini di cose future io spero che questo video vi abbia fatto piacere e vi sia quindi piaciuto quindi come al solito vi ricordo di lasciare un bel mi piace qua sotto a questo video iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto condividere il video con i vostri amici in modo tale che si possano iscrivere anche loro e far vedere queste bellezze anche a loro commentare con qualche consiglio suggerimento o anche sulla vostra collezione che sono veramente curioso e noi ragazzi ci vediamo prima vi ricordo anche di leggere tutta la descrizione per qualche suggerimento e quant'altro ci vediamo alla prossima con un altro video io vi saluto e ciao ciao ciao